45 e galassia completata Fico Adesso andiamo a vedere Questa corsa Dov'era? Ok nel secondo mondo Galassia a volo nella giungla D'accordo Mondo 2 Qui Ok Eccola qui Vai proviamo Ah quella che dobbiamo guidare Lucellaccio Capirei Già mi son piccato la prima volta Figuriamoci adesso Grande gara nella giungla Si va Oh quanti siete Ok Che cosa devo fare? Mettimi la prova Prova Sono sempre pronto Pronto Sono il migliore che ci sia Mettimi la prova Non perdo mai le gare Gare Aspetta Che dicono gli altri? Fifone Fifone Che è Fifone Eh un attimo Fammi sentire che dicono gli A Ah ok No posso andare solo con lui Ok scusa Non lo sapevo Mettimi la prova Si Ok ok Scontro Scontro E non credere di farmela Andiamo Andiamo Ah no Volo contro di lui Bene ragazzi Non ricordo assolutamente i comandi Dovevo inclinare lo stick Vero? Si Non era proprio così Vabbè E secondo voi Io dovrei prendere Le astroschegge E lì Sono anche In terza posizione Secondo Lì c'è una vita Posso passare addirittura Qui sotto Eh sì ma Ah si scende Eh dovrò riprovare Andiamo in picchiata qui Vai Non voglio se finisco in acqua No Rimbalzo Non è necessariamente un male Vai Prendiamo velocità Lì c'è un anello Siamo primi Vai Possibile Ho perso Non sono più in forma Per continuare ad essere Il capo dei cieli Tu sei il nuovo capo E per questo Hai bisogno di un trofeo Ecco Prendi questa super stella Prendi Grande ragazzi Non me l'aspettavo Non ci avrei puntato Una sola astroscheggia Vai Bello Bello Felice io sono 46 E galassia completata Dimmi Vedo che hai portato Un uccello Veramente chiassoso Ah è venuto con noi Senti la dolce melodia Delle stelle No Beh è per coppa di tutto Il rumore che fa Quello lorito Perché non cerchi Di farlo starcito Un pochino Ma quant'è carino Ok intanto Astroschegge Come al solito Dov'è? Si sta facendo Veramente affollata Questa astronave Vabbè Poi ci parliamo Andiamo avanti Dovremmo avere Solo nuovi mondi Esatto Quindi Torniamo Alla mappa Dei mondi Andiamo al terzo Semmi Eh no In questo gameplay No Ma presto finirò Anche il terzo mondo Li abbiamo fatto tutto Quindi Nuovo Mondo Galassia Bella Tonda Li abbiamo fatto tutto Vai Che succede qui? Cadegnaccio Argento Sul ring Interessante Oh mio Dio Queste cose Sono tanto odiose Quanto divertenti Sul primo Si sentiva la musica Di Super Mario Bros 3 Vediamo se qui C'è qualcosa di simile Dobbiamo portare La stella O meglio La palla Con dentro la stella Ehi Sono io Lello cartello Se vuoi salire Sull'astrosfera Ascolta i miei consigli Allora Per prima cosa Devi saltare Sull'astrosfera Aspetta Fammi prima Prendere Le astroschegge Tanto lo so Come funziona Devo inclinare Lo stick Ecco Ce l'hai fatto? Bene Questa è la posizione Di base Dalla posizione Di base Inclina il telecomando Per cominciare Tipo la cloche Di un aereo In pratica Puoi usare A Per saltare E puoi anche Schiacciare i nemici Sul percorso Ma basta con le chiacchiere Fai una prova Cerca di andare avanti Fantastico Ok Andiamo Io ci provo A prendere Le astroschegge Ma Qui non posso Entrare Va bene Andiamo Uno e due Vai vita e due monete Qui c'è una chiave Beh dai tutto sommato è abbastanza facile Abbiamo anche aperto la serratura Però prima di andarci voglio prendere Queste astroschegge Che sforzo Che poi se incrino troppo Comincio a correre e me ne vado chissandove Ok Era qui Puto È tutta zona con i colori Gli astucci Eh Bene Piano che qui si cade Guarda quanto sono avido Ecco fatto andiamo Ah qui si continua però Eh per una vita Eccoci questo è il ring Eh vabbè Pretendete troppo Aspetta io provo questi lumba Vabbè pazienza Devo farle tutte gialle Ok Piano Mamma mia ragazzi che nervi Che ansia Eccoci qua Oh mio dio la roba Allora Ok lì c'è la medaglia cometa Ci sono anche Oh le seghe Qui si cade si cade No Non ci posso credere Ragazzi lo sto perdendo Ah pensavo che quelle si che la facevano cadere Si che la fanno cadere Meno male che mi sono sbrigato Eh vabbè Oh Sapete che c'è io la medaglia cometa L'ho presa Sbrighiamoci Ecco fatto E come le prendo quelle Ci siamo Ok dobbiamo spingerlo Simile a un gioco A Mario Party C'era un gioco simile con le palle Che dovevamo spingere fuori l'avversario Ed io ce l'ho fatta Ok la fine è stato semplice Ma me sa che non finiva Vai invece è andata Più semplice del previsto Alla fine è stato più impegnativo Un livello che Lo scontro finale Ok arrampichiamoci In pieno stile Super Mario Bros Andata Io in totale sto a 55 minuti di gameplay Questo sicuramente sarà un episodio Cioè sarà il secondo episodio della settimana Medaglia cometa Vediamo se riesco a registrarne ancora L'equivalente di un altro episodio Eh sì Quello che serve Penso per finire questo mondo Una mega stella Una cometa burlo Ah è apparsa una cometa burlona Nel mondo Di Bowser Qua Letto Ordione di Bowser Junior Tocca andarlo a prendere Dimmi Todd È arrivata una lettera Per lo sfavillotto Baby Attenzione Eh sì sì È rosa linda ragazzi Caro sfavillotto perduto Sono sinceramente preoccupata per te Ma sono certa che farei del tuo meglio Senza commettere sciocchezze I vi allego un pensierino Nella speranza che possa esserti utile C'erano 50 astroschegge Beh dai Non c'è scritto il mittente Ma riuscirò a scoprire chi l'ha mandata Dai dai che lo sappiamo Quindi Ci aspetta una cometa burlona Eccola qui Mondo 1 Torrione di Bowser Quindi si va Anche perché qui abbiamo fatto tutto quanto Serve soltanto D'andare a concludere questo mondo Ma lo faremo Lo faremo Eccola qua E intanto io prendo sempre Qualche astroschegge in più No Di qua Dai Avevo sistemato tanto bene Questo sensore del Wii Gli ho dato una botta L'altro giorno Eccoci Falle corsa contro una fame da draghi Quindi si corre Ci sarà il tempo limite Mi sa che è come la prima volta Oh no Il dio drago Dei poveri Sicuramente ci sarà il tempo limite Oppure abbiamo solo Un punto energia Due minuti Ok Cerchiamo di fare in fretta Dovevo colpire Le pallette rosa E ho capito Ma attacca un po' Ci siamo Presa No Mancata Ah Era tosto Preso Preso Quasi preso Ok ci siamo Preso Preso E preso Ma davvero Grande Eh Questa volta lo sapevo Ho rischiato ma Ce l'ho fatta E vai Wahoo 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 E pure questa Quarantotto Asino cotto Diceva la mia maestra All'elementari Galassia completata Ok Altra cometa burlona Nella galassia Bella tonda Quindi Torniamo lì Qui abbiamo fatto tutto Ah Torniamo alla mappa Dei mondi Qui Eccola Eccola qua Cometa burlona Non dovrei averne Lasciata nessuna Finora Poi ovviamente Scrivetemi nei commenti Se c'è qualcosa Che devo sapere Cometa burlona Immagino che anche qui ci sarà il tempo E anche le bo-bombe Bene Due minuti Andiamo di corsa Mettiamocela tutta Stavolta niente astroschegge Niente monete Non mi importa nulla Però qui dobbiamo trovare la chiave Dov'era? Eccola Ho dato una botta al microfono Siamo proprio giustamente sul polo opposto Arrivo A gran velocità A troppa velocità Dai Mario Su Un minuto e 27 Andiamo Corriamo Ma non troppo Perché devo comunque vedere La strada Beh Due monete le ho prese Anzi anche tre Ok Ora Attenzione Dobbiamo farle diventare Tutte gialle Bene Un minuto Eh questa sarà tosta Dai 50 secondi Andiamo Non mi importa Non mi importa nulla Tanto la medaglia Cometa L'ho presa Ho scelto proprio la parte più sbagliata Eccoci 35 secondi Ma ci siamo Ok Devo affrontare il cateniaccio Dai Dai Mannaggia Prima ci sono riuscito Tanto bene No Io non ci posso credere Sono andato a perdere Adesso 10 secondi Eh Ma neanche se fossi Ok Riproviamo da qui Ci vediamo a questo punto 40 secondi Dai Ok 30 secondi Stavolta Andata ragazzi Stavolta si Spero che non ci sia ancora il tempo Quindi Se il tempo si interrompeva qui Anche prima Avrei potuto farcela Se non mi fossi suicidato Pensate che tonto Però È andata Mamma mia che stanchezza Ragazzi È più di un'ora Che sto registrando Tutti questi gameplay In un colpo solo Comincio ad essere un po' stanco Non sembra Ma è faticoso Stare a registrare Specialmente quando hai I faretti puntati addosso 49 E galassia completata Credo che Ci sia rimasto Da andare a completare Il terzo mondo Eh sì Ragazzi Sto procedendo Veramente Molto meglio Di quanto Non avesse usato Sperare Quando decisi Di cominciare Super Mario Galaxy 2 Ora immagino Che dovremo entrare In questo tubo Non pensavo Che per davvero Avrei Preso tutto 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 Non conoscevo il gioco Quindi dico Ma Però visto che sto entrando Nell'ottica Flotta navale Dai Prendiamo questa E poi Finché avrò voglia Mega Megarobot Martellante Ok Anche il computer Comincia ad affaticarsi Non aveva mai Scattato Ma del resto Fa caldo Ragazzi Ok Adesso sono dei denti Quelli Attenzione Perché non durano Tanto Bene Questi posso Sconfiggerli Così Attenzione I pallottoli Bill Oh Ma quanto ti espandi Presa tutte quante Dobbiamo andare lì Ma io voglio vedere Qui Che c'è un nuovo dio Ok Non posso batterli Pensavo che Con uno sganassolli Potevo mettere fuori combattimento Forse Ehi No Ma guarda che spettacolo Allora aspetta Con Yoshi Possiamo prendere i pallottoli E Sputarli là Fantastico Ogni mondo È una nuova scoperta Pensate posso addirittura Mangiare questi cosi Non avevo dubbi Lì c'è Una levetta Rischiosissimo Ma posso sparare lì Per prendere le astroschegge Cerchiamo di essere precisi Posso uccidere anche loro? Certo Anche perché A un certo punto Dovremmo aprirci la strada È piuttosto di quello che sembra Mannaggia Eh ho sbagliato Yoshi Vieni qui Ma la piattaforma Se ne è andata ragazzi Ci ho fatto caso Ah no no Ok ne passano altre Ok ok Ah ho preso proprio 20 Ok Attenzione quindi Mi servono dei pallottoli Penso di poterle saltare Ma Sì sì Posso passare Naturalmente Sì ma devo usarli Per rompere quella Tutto a posto Qui c'è una piattaforma lancio Per andarci Sì a quanto pare sì Hammer brother Tieni Perfetto Ah però aspetta C'è una statua di Bowser Devo distruggerla? Sì Per avere una vita Ok un po' d'energia Aspetta che ho visto Una moneta Perché c'è una moneta qui? Perché qui si scende Ma guardate Quanto tempo ho Bene Ok abbiamo attivato la piattaforma E si è attivato Una nave spazio-tempo Dimensionale Infame Ok Calma Esploriamo Lì c'è un Hammer brother Che mi aspetta E anche una medaglia cometa Andiamo E anche un fugo Mannaggia Yoshi Vabbè Oh pazienza Yoshi lo riprende Oh ok Non è andato di sotto Porcaccia Caraccona Ok Tieni Bella per te Ci sono due pallottoli in arrivo Un'altra piattaforma Perttaforma Oh ma è andato di sotto Cominciamo a darla per dispersa Mamma mia Mamma mia Ok Checkpoint Oh ma ti ancora stai qua Visto che stai qui Fa qualcosa di utile E' il fungo energia Già ce l'ho Me lo faccio bastare Rischiamo Eccolo Bowser Junior Hai la testa dura eh Allora azionerò il mio robot Mentre rimango seduto Al posto di comando Visto che ci tieni tanto Ad avere una mega stella Vieni a prenderla Se ci riesci Che cos'è? Oh mio dio Bene per il momento Corriamo Dato che non so cosa fare Abbiamo anche recuperato energia Che cosa fa con quei Ok calma Bene Devo fargli esplodere le tette In pratica Opla Nessuno meglio di me E' in grado di prendere la mira In questo caso In questi casi Però Ah non è finita Ok Ah Ha fatto esplodere Dove vado qui? Ah ok Vengo sbalzato Dalla parte opposta Perché dobbiamo colpirlo Anche alle spalle Attenzione a questo raggio E vai Prendi questa minarda Sui reni No si è girato Ok corriamo Eccolo qui Occhio 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 Finito? Dubito No c'è ancora qualcosa Forse alle spalle Forse alle spalle Ancora Attenzione perché la piattaforma A un certo punto si interrompe Quindi c'è anche il pericolo Di andare di sotto Come devo colpirlo? Forse in fronte Troviamo L'ho colpito Ma non ho visto come Comunque Yoshi mi serve Ok eccolo Adesso Ok ho capito Nel momento che dà la martellata È il momento giusto Per colpirlo Quindi Continuo a farmi colpire Ma Dovrei avercela fatta Scappato Coda rigorosamente Tra le gambe Ma mega stella Per noi E come cacchio L'ho preso Ah ok Sì c'è la piattaforma Vieni con me Yoshi Dividiamoci il merito E se casco adesso Veramente Eccola Sì E terzo mondo Completo Rifletteva anche Mario La mega stella Questo è Già ray tracing Ai tempi di lui E' apparso un varco Spazio dimensionale No Un varco spazio temporale Mega stella Flotta navale E siamo a 50 Super stelle Ragazzi L'avevo presa qui la mega stella La medaglia La medaglia Sì Ben fatto amico Questa è la tua terza mega stella Bene Siamo pronti per superare i limiti spazio temporali Quel tipo Bowser Si trova ancora là Da qualche parte Al prossimo mondo Comandante E si va Quarto mondo E' molto vasto Comunque Questo Mario Galaxy 2 Non c'è che dire Oh mamma mia Abbiamo fatto tanta strada E tutto questo E' grazie ai tuoi sforzi A te il timone Comandante Ok ragazzi Io per adesso Mi fermerei qui Ho fatto un unico Grande gameplay Che della durata Di quasi un'ora e mezza Più o meno Tagli permettendo Che adesso Interromperò E Monterò Non dovrebbero esserci Grossi tagli da fare Nulla di particolarmente complicato E poi dividerò in tre Penso in tre episodi Forse Staremo a vedere Penso Che dovrebbero bastare Per coprire Questa settimana Che voi state vedendo In cui io Dovrei stare fuori Di nuovo in Umbria Se ci riesco Io diciamo Nella mia linea temporale Parto Dopodomani Però domani sera Una festa di compleanno Quindi Faccio tutto adesso Mi prendo Il resto della serata Per fare il montaggio Se ci riesco Domani Registro ancora Cercherò di coprire Più tempo possibile Io spero che apprezzerete I miei sforzi Ragazzi Per cercare di mantenere La voce non c'è più Ragazzi Dopo un'ora e mezza Mi sta abbandonando Poi oggi Avevo anche registrato L'episodio di Quake Che avete visto Tempo fa Ho fatto tutto In un unico giorno Quindi spero apprezzerete Gli sforzi Che sto facendo Per tenere in forza Il canale Per essere presente Per cercare di darvi Più prodotti possibili In quel caso Dimostratemelo Lasciandomi un bel like Iscrivendovi al canale Se ancora non l'avete fatto E in caso Lasciandomi un commentino Leggerò tutto quanto Nei video che sto facendo Una volta Ogni settimana Ogni due settimane In cui leggo i vostri commenti Ora mi fermo Sto morendo E vi do appuntamento Alla prossima volta O nel mio caso Nel futuro Ciao ragazzi Abbraccione da zio Ivan